Seconda giornata del terzo screening nelle scuole organizzato dal Comune di Pesaro. Seconda giornata dedicata alle scuole medie, oggi con seconde e terze medie, ieri con le prime medie. Emergono anche i primi dati, dati che hanno visto circa tre positivi nella giornata di ieri, nelle prime medie. Una decina già emersi oggi in questa mattina, dunque uno screening che sottopone a tamponi tanti studenti e che dunque porta anche a far emergere questi risultati. Screening qui alla scuola Dante Alighieri, dove ci troviamo in questo momento, ha visto anche la partecipazione del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, che ha voluto ribadire ancora una volta il valore di questa iniziativa. Ieri ho incontrato il ministro Bianchi alla pubblica istruzione e ho ribadito che se vogliamo davvero avere una scuola sicura, l'unico modo che abbiamo è quello di monitorare costantemente i ragazzi da qui alla fine dell'anno scolastico. Non c'è altra strada perché i ragazzi sono fuori dalla campagna di vaccinazione, fino ai 16 anni non verranno vaccinati, sopra i 16 anni presumibilmente verranno vaccinati durante l'estate, alla fine dell'estate, quando l'anno scolastico sarà finito. E quindi se vogliamo davvero garantire il più possibile una scuola in presenza e una fine ordinata dell'anno scolastico, l'unico modo è questo. Abbiamo costruito un modello che può essere utile a livello nazionale. C'è nella volontà del ministro quella di controllare i ragazzi in tutte le scuole, stanno studiando il meccanismo organizzativo e ci sono 150 milioni a bilancio perché nell'ADL sostegno che si sta discutendo in queste ore ci sono 150 milioni destinati al controllo dei ragazzi nelle scuole. Quindi questa esperienza di peso, ormai non è più un esperimento per la terza volta, è fondamentale. Questa settimana, grazie al lavoro che Mila e Giuliana hanno organizzato insieme agli istituti scolastici, siamo nelle scuole medie, la prossima settimana saremo nelle scuole superiori. E i dati che stanno emergendo sono dati interessanti perché complessivamente l'affluenza intanto è molto alta perché siamo ad un'affluenza intorno al 70%. Dall'altra stanno uscendo diversi positivi, non in maniera esorbitante che vuol dire che la scuola tutto sommato è un luogo sicuro, ma ieri 3, oggi già siamo a 10, a metà mattinata, quindi stanno uscendo dei numeri che dimostrano che se quei ragazzi non fossero stati controllati con il tampone veloce inconsapevolmente nei prossimi giorni avrebbero infettato altri compagni di classe, familiari e via dicendo. Non solo Comune di Pesaro, ma c'è una complessa macchina operativa alle spalle di questa operazione, Croce Rossa, AIL, Aspes e i volontari della Onlus Gulliver tra i protagonisti di questo importante impegno a supporto dello screening. Un bellissimo progetto del sindaco Matteo Ricci che unisce il mondo della scuola con il volontariato e i sanitari. Da nostra parte con AIL sarà quella di fornire i volontari che regolarmente daranno l'ingresso degli studenti, controllano le temperature e controllano i documenti degli studenti. In più abbiamo dei volontari che sono medici e infermieri che daranno una mano a fare i tamponi. Una sinergia comunque completa che fa della città di Pesaro un modello nazionale. Grazie. Grazie.